Questo video è stato prodotto da Elvega, Riccardo Zigarini, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi, Elia Morini, Luca Gemignani e Daniele Sozzi. La voce dall'abisso di H.P. Lovecraft. Lettura di libri in pillole. Illustrazione di Lorenzo Bisogni. Prima di abbandonare l'argomento di Samuel Loveman e dei racconti dell'orrore, devo raccontarvi lo spaventoso sogno che ho fatto la notte dopo aver ricevuto l'ultima sua lettera. Di recente abbiamo discusso a fondo di racconti sopranaturali e lui mi ha consigliato parecchi libri da far rizzare i capelli, cosicché ero nello stato d'animo adatto a recepire qualsiasi idea di orrore o di terrore fuori del mondo. Non ricordo come cominciasse questo sogno o di che cosa realmente trattasse. Ne è rimasto nella mia mente solo un agghiacciante frammento, la cui conclusione mi ossessiona ancora. Eravamo, per qualche ragione terribile ma sconosciuta, in un cimitero molto strano e antichissimo che non saprei identificare. Penso che nel Wisconsin non ci sia niente del genere, ma nel New England li abbiamo, luoghi orribili dove le lastre di Ardesia sono incise con strane lettere e con macabre figure, come teschi e tibie incrociate. In alcuni di questi luoghi si può camminare per lunghi tratti senza trovare tombe più recenti di 150 anni fa. Questo era lo scenario del mio sogno. Una squallida distesa coperta da un'erba lunga, contorta e repellente, tra cui spuntavano le orribili tombe e le lastre di Ardesia in sfacelo. Su di un pendio c'erano molte sepolture le cui lapidi erano all'ultimo stadio di decrepitezza. Avevo la strana sensazione che nessun essere vivente avesse calpestato quel suolo per molti secoli, fino all'arrivo di Loveman e mio. Era notte inoltrata, probabilmente le prime ore del mattino, visto che una falce di luna calante aveva raggiunto un'altezza considerevole ad est. Loveman recava a tracolla un'apparecchiatura telefonica portatile. Io invece portavo due vanghe. Procedemmo direttamente sino ad un sepolcro piatto, vicino al centro di quell'orribile luogo, e cominciammo a sgomberare la terra muschiosa che le piogge avevano accumulato in innumerevoli anni. Il Loveman del sogno aveva lo stesso aspetto che ha nelle foto che mi ha inviato, un giovane grande e robusto, assolutamente non semitico nei tratti, sebbene scuro di pelle, e molto bello, tranne che per un paio di orecchie a sventola. Non parlammo finché non posò a terra l'apparecchiatura telefonica, prese un badile e mi aiutò a spalare la terra e le erbacce. Entrambi sembravamo molto impressionati da qualcosa, quasi intimoriti. Alla fine completammo i preliminari e Loveman indietreggiò per guardare il sepolcro. Pareva sapere esattamente che cosa stava per fare e anch'io ne avevo un'idea, sebbene ora non riesca a ricordare quale fosse. Tutto quello che rammento è che stavamo mettendo a frutto un'intuizione che Loveman aveva ricavato dallo studio intenso di libri antichi e rari, dei quali possedeva le uniche copie esistenti. Loveman, come forse sapete, ha una vasta biblioteca di rarissime prime edizioni e altri tesori preziosi per un bibliofilo. Dopo qualche rapido calcolo mentale, Loveman riprese il badile in mano e, usandolo come leva, cercò di sollevare la lastra che chiudeva il sepolcro. Non ci riuscì, perciò mi avvicinai per aiutarlo con il mio badile. Infine, riuscimmo a liberare la lastra di pietra, ma la alzammo con le nostre forze unite e la gettammo da parte. Al di sotto c'era un passaggio nero con una rampa di scalini di pietra, ma così disgustosi erano i miasmi che si riversarono fuori dal fosso che indietreggiammo per un istante, senza fare osservazioni. Poi Loveman prese l'apparecchiatura telefonica, cominciò a svolgere il filo e nel farlo parlò per la prima volta. «Mi dispiace veramente», disse con una voce calda, piacevole, educata e non molto profonda, «di dovervi chiedere di restare in superficie, ma non posso rispondere delle conseguenze se scendete sotto con me. Sinceramente dubito che chiunque con un sistema nervoso come il vostro potrebbe farcela. Non potete immaginare che cosa dovrò vedere e fare, nemmeno da quello che c'è sul libro o da quello che vi ho detto io. E credo che nessuno senza nervi d'acciaio potrebbe mai scendere e risalire da quell'abisso vivo e sano di mente. Ad ogni modo, questo non è il posto per chi come voi non abbia superato l'esame medico dell'esercito. Io ho scoperto questa cosa e in un certo senso sono responsabile di chiunque venga con me, perciò non vi farei correre il rischio nemmeno per un milione di dollari. Ma vi terrò informato di ogni movimento che farò con questo telefono. Vedete bene che ho filo sufficiente ad arrivare al centro della Terra e ritornare». Feci delle obiezioni, ma lui replicò che se non avessi acconsentito avrebbe rimandato la missione e si sarebbe cercato un altro compagno. Menzionò un certo Dottor Bark, un nome che mi era completamente sconosciuto. Aggiunse che sarebbe stato del tutto inutile che scendessi da solo, visto che lui era l'unico in possesso della chiave di tutto l'affare. Alla fine assentì e mi sedetti su una panca di marmo che era vicina alla tomba aperta, con il telefono in mano. Lovman tirò fuori una torcia elettrica, preparò il filo del telefono in modo che si potesse srotolare e scomparve lungo i gradini di pietra muschiosa, mentre il filo isolato frusciava svolgendosi. Per un momento seguì il bagliore della sua torcia, ma ad un tratto la luce svanì, come se la scalinata di pietra curvasse. Poi tutto fu tranquillo. Dopodiché seguì un periodo di paura sorda e di attesa ansiosa. La foschia o la nebbia che riempivano la cavità sembrarono addensarsi. Tutto era orribilmente umido e intriso di rugiada e mi parve di vedere una civetta svolazzare nell'ombra. Poi uno scatto risuonò nel ricevitore del telefono. «Lovecraft! Penso di stare per trovarlo!» Le parole arrivarono in un tono teso, eccitato. Ci fu una breve pausa, seguita da altre parole pronunciate in un tono di timore e di orrore indicibili. «Dio Lovecraft! Se poteste vedere quello che vedo io!» Allora, con grande eccitazione, chiesi che cosa fosse accaduto. Loveman rispose con voce tremante «Non posso dirvelo! Non oso! Non avrei mai immaginato questo! Non posso dirvelo! Basterebbe perché una mente... Aspettate! Che cos'è questo?» Seguirono una pausa, uno scatto nel ricevitore e una specie di gemito. Quindi di nuovo delle parole. «Lovecraft! Per l'amor di Dio! È finita! Fuggite! Fuggite! Non perdete nemmeno un secondo!» Io ero ormai terrorizzato e chiesi freneticamente a Loveman di dirmi che cosa fosse accaduto. Replicò secco «Non ci pensate! Presto!» Allora mi sentì offeso, pur essendo tanto impaurito. Mi irritava che qualcuno potesse presumere che fossi disposto ad abbandonare un amico in pericolo. Ignorai il suo consiglio e gli dissi che stavo per scendere in suo aiuto, ma lui gridò «Non siate stupido! È troppo tardi! È inutile! Non c'è più niente che voi o chiunque altro possa fare!» Sembrava più calmo, di una calma terribile, rassegnata, come se avesse incontrato e riconosciuto una sorte inevitabile a cui non poteva sfuggire. Eppure era palesemente ansioso che io sfuggissi a qualche pericolo indescrivibile. «Per l'amor di Dio, scappate se ci riuscite! Non sto scherzando! Addio, Lovecraft! Non ci vedremo più! Oddio, scappate! Scappate!» Quando strillò le ultime parole, il suo tono era un crescendo forsennato. Ho cercato di ricordare le parole quanto più precisamente possibile, ma non riesco a rendere il loro tono. Segui poi un lungo, spaventosamente lungo periodo di silenzio. Cercai di muovermi in soccorso di Loveman, ma ero completamente paralizzato. Mi era impossibile il benché minimo movimento. Potevo parlare, però, e continuai a gridare in tono eccitato nel telefono. «Loveman, Loveman, che cosa c'è? Qual è il problema?» Ma lui non rispose. E poi accadde una cosa spaventosa, una cosa orribile, inspiegabile, indicibile. Ho già detto che Loveman non parlava più, ma dopo un enorme intervallo di terrificante attesa si sentì un altro scatto nel ricevitore. Io chiamai «Loveman, mi sentite?» e mi rispose una voce, una voce che non posso descrivere con nessuna parola, lo so. Posso dire che era cupa, profondissima, fluida, gelatinosa, infinitamente remota, ultraterrena, gutturale, spessa. Che cosa posso dire? La sentì in quel telefono, la sentì mentre stavo seduto su una panca di marmo in quel cimitero antichissimo e sconosciuto, con le lapidi e le tombe sgretolate, le erbacce lunghe e l'umidità, la civetta e la falce di luna calante. Venne dal sepolcro e questo fu quanto disse. «Idiota! Loveman è morto!» «Ebbene, ecco tutta la maledetta faccenda. Nel sogno sono svenuto e poi mi sono ritrovato sveglio, e con un mal di testa straordinario. Non so ancora di che cosa si trattasse, che cosa stessimo cercando sopra o sotto la terra, o che cosa fosse quell'orrenda voce del finale. A tempo debito ho intenzione di introdurre questa scena in un racconto, così come ho introdotto un'altra scena onirica in The Doom That Came to Sarnoth. Mi chiedo però se ho il diritto di rivendicare la paternità delle cose che sogno. Esito a prenderne il merito, visto che non ho veramente elaborato un'immagine con la mia mente cosciente. Eppure, se non mi attribuisco il merito, a chi, in nome di Dio, dovrei attribuirlo? Colridge rivendicava la paternità di Kubla Khan. Di conseguenza, penso che io rivendicherò questa e lascerò perdere la faccenda. Ma credetemi, è stato veramente un sogno terribile!